Siamo qua alla festa di 105 ed è successo un casino, allarme bomba, stiamo scherzando, guardate qua tutti stanno uscendo perché è accaduto un allarme bomba, ci hanno detto di uscire, è entrata la polizia per controllare Allora adesso siamo saliti sul van, siamo qua con, salutate, Mattia Eravamo al primo, circa 300-350 persone dentro questa villa alla festa di 105 e quindi sono tutti preoccupati perché vedendo i cani che incominciavano a girare sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, che non so bene cosa, però insomma aspettiamo C'è la bomba raga, allarme bomba Scappiamo! E' Firenze e Arihava Mi serve per il Fanta Sanremo Scappare alla polizia Io ho la squadra Eh appunto, vanno a sca... Inseguici un attimo Scusate 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 Scusate